Good morning a tutti voi! Siamo sempre in compagnia di Luca al capitolo undicesimo, due brevi versetti. Mentre diceva questo, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. Ma egli disse Beati piuttosto che loro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Ecco, una donna guarda Gesù e dice ma che fortuna ha avuto sua madre ad avere un figlio così. E in qualche modo questo lo pensiamo anche noi, no? Lo pensiamo anche noi quando diciamo o pensiamo, beh se io fossi stato lì contemporaneo, se io avessi visto Gesù, se io avessi visto Maria, se io avessi visto l'angelo, se io avessi visto i pastori eccetera, beh allora sarebbe più facile. E no, no, non è vero. Maria si trova nella stessa situazione nostra in cui ascolta una parola, ascolta una chiamata, deve fare discernimento, deve meditare, deve decidere. E Maria decide. Per cui Beato il suo grembo, ma perché quel grembo nella testa e nel cuore ha creduto che Dio fosse della sua parte. E noi siamo nella stessa situazione. Per questo Gesù dice Beati coloro che ascoltano la parola e la mettono in pratica e la osservano. Che non è un'osservanza, come dire, di osservare delle norme, delle leggi, ma è vivere, è vivere, è vivere della parola di Dio. Beati coloro che in ogni tempo e in ogni luogo ascoltano la mia parola e provano a discernere, a meditare, a decidere e a vivere. Per questo Gesù dice Beati noi, cioè dice a noi, che in ogni tempo e in ogni luogo proviamo a seguire il Maestro. Questa cosa è fantastica. No, Maria non è una privilegiata. No, no, no. Maria non è una privilegiata, una prescelta o altro. Però, Maria ha fatto quello che siamo chiamati a fare ognuno di noi. Ha detto sì. Ha detto sì. E oggi noi diciamo sì al Vangelo. Proviamoci. Le cose belle della giornata di ieri. Ieri ho avuto, sono stato al Consiglio Presbiterale, come membro del Consiglio Presbiterale. Abbiamo discusso soprattutto sul futuro, ecco, delle comunità. Noi ci siamo visti, ho fatto questa osservazione, che tra cinque anni noi saremo 49 preti nella nostra diocese, il Cuneo Fossano, sotto i 75 anni. E quindi dobbiamo avere il coraggio, il coraggio di fare delle scelte. Con i laici, con voi, voi, magari molti che mi ascoltate non siete della nostra diocese, ecco. Ma dobbiamo avere il coraggio di sognare, immaginare, decidere la Chiesa che verrà, che è il nostro tema dell'anno, ecco. E' stato un bel incontro, c'è stato un bello scambio, sincero, schietto, vero, e di questo sono molto grato. E poi ringrazio anche quelli che così mi hanno contattato, perché in questi giorni ci sono due anniversari. C'è sempre un giovane, Paolo, che si ricorda che l'11 ottobre sono diventato parroco di questa comunità e tutti gli anni mi manda gli auguri. E poi ieri era il mio anniversario di sacerdotio, il 13 ottobre. Sono passati 22 anni e quindi sono grato, vabbè, a chi mi ha scritto, mi ha mandato dei messaggi, ma sono grato per questi 22 anni, ecco. in cui, faticosamente, ho cercato di discernere, meditare, decidere. Insomma, in realtà ho scoperto che Dio mi ha dato molto di più di quello che... Mannaggia, io ho dato a Lui e anche la gente, i uomini, le donne che ho incontrato in questi 22 anni mi hanno amato molto di più di quel che certamente io meritassi nei miei limiti. Ecco, quindi oggi dico grazie a tutte le persone che mi hanno amato in questo ministero e sono state veramente tantissime ed è una cosa eccezionale. Non me lo merito, lo ringrazio solo, ecco. Ale, buona giornata a tutti voi.